latte nelle scuole ma non solo anche le scuole a diretto contatto con il latte per far capire ai più giovani che il latte non si fabbrica lo producono gli animali e quale migliore esperienza di una mungitura direttamente da delle bellissime caparette latte nelle scuole è un progetto finanziato dall'unione europea realizzato dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del turismo in collaborazione istituzionale con la camera di commercio e union camere da andora a cairo montenotte per andare alla scoperta del latte là dove nasce in mezzo alle capre ma anche alle pecore questo è il viaggio della maestra giovanna dall'istituto comprensivo appunto andorese insieme ai suoi alunni beh una giornata diversa rispetto a quella in classe certamente sì ci offre l'opportunità di far vedere ai bambini la trasformazione del latte nel formaggio e soprattutto di distinguere una pecora da una capra oppure da una mucca perché tanti bambini queste cose non le hanno ancora mai viste quindi mai imparate latte nelle scuole si svolge in tutta Europa e si concretizza in visite didattiche nell'azienda agricola nella distribuzione di alcuni prodotti lattiero caseari agli studenti e nella realizzazione di attività di informazione sui prodotti e di sensibilizzazione su una corretta alimentazione abbiamo la fortuna di avere questa bellissima azienda agricola che si sviluppa su 5 ettari di terreno con recinti le stalli gli animali e un caseificio che dal 2012 13 produce formaggi di capra quindi è un ambiente ideale per tutte quelle attività scolastiche didattiche di formazione direttamente sul territorio e per vedere incredibile anche per i nostri occhi vedere ad esempio un cane da pastore al lavoro visto che abbiamo questi belli terreni che potete vedere poi anche nelle immagini e abbiamo siamo dato in conto un'esigenza che è quella di formare dei cani per la conduzione del bestiame avendo le possibilità è nata qui una scuola di addestramento grazie a un mio collega che ha questa passione dove vengono esercitati a imparare per addestrare i cani proprio a condurre i greggi. E anche questa è davvero una grandissima particolarità una piccola perla una chicca insieme al fatto che qui i bambini possono addirittura mungere le caprette e capire da dove arriva il latte quello vero? Sì quando c'è la possibilità e non sono troppo numerosi cerchiamo di far provare i ragazzi l'emozione di poter prendere veramente il latte da dove nasce no? Abbiamo degli animali molto docili e quindi è possibile come potremo faremo fra pochi minuti far vedere e insegnare il movimento l'antico movimento per estrarre il latte dalla mammella. E poi dal latte ovviamente al formaggio nel caseificio queste formine che magicamente ma non magicamente ma con tanto lavoro e impegno diventa un ottimo formaggio. Sì e lì è tutto un'arte l'Italia insieme alla Francia sono i paesi che hanno si dice più formaggi che comuni perché è facilissimo avere dei formaggi differenti basta cambiare uno degli elementi della casificazione quindi questo miracolo che si parla da questo alimento che è il latte si arriva poi a tantissimi tipi di formaggi differenti. Il progetto Latte nelle scuole è realizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria che ha organizzato una serie di attività di educazione al di fuori del contesto scolastico appunto anche con visita alle imprese della filiera lattiero casearia. Franco Stumpo è un agronomo consulente della cooperativa qui di Cairo degli allevatori e oltre ad essere bravissimo con i cani perché è spettacolare vedere i cani lavorare e guidare il gregge ma conosce anche le caratteristiche delle capre che vengono allevate qui. Un latte diverso a seconda della tipologia di capre è così? Eh beh sì perché biodiversità vuol dire anche questo nel senso razze diverse producono latte diverso. Queste sono capre sanen è una razza che è presente in tutto il mondo è una razza selezionata per la produzione di latte come la camosciata delle alpi producono un latte particolarmente delicato perché è delicato perché molte volte noi quando mangiamo formaggio sentiamo alcune volte un gusto particolare un gusto un po più forte questa cosa è dovuto a dovuto a degli acidi naturali che sono presenti nel latte come l'acido capronico l'acido caprico che danno proprio il nome prendono il nome dalla razza dalla specie dalle capre loro producono un latte che hanno un minore quantitativo di acido capronico e acido caprico e quindi il latte è un latte particolarmente delicato. Partiamo sempre comunque dal presupposto che il latte di capra insieme al latte di asina è uno dei latti migliori dal punto di vista della digeribilità per cui è un latte particolarmente adatto per i bambini perché produce e ha del grasso con delle micelle molto piccole e molto digeribili.